Buongiorno, sono particolarmente lieta di dare il benvenuto all'ambasciatore Andreas Ferrarese che è qui con noi oggi, benvenuto al professor Luca Olivieri e a tutte le autorità presenti, a voi tutti, agli studenti. L'ambasciatore Ferrarese è qui oggi con noi e sono felice per due ragioni principali. Innanzitutto è un nostro laureato, è un cafoscarino, come lo è la famiglia Ferrarese ed è qui anche con noi Stefano che pure si è laureato a Cafoscari. Chiedevo prima all'ambasciatore se si è laureato esattamente qui e sì, come noi tutti in quegli anni e quindi innanzitutto benvenuto come alumnus di Cafoscari, come ambasciatore e poi perché con l'arrivo a Cafoscari del professor Olivieri abbiamo ereditato un'importantissima missione archeologica italiana fondata da Giuseppe Tucci nel 1955, una missione che oggi è anche cafoscarina oltre ad essere una missione dell'ismeo. in un luogo meraviglioso del Pakistan, la regione dello Swat, su cui poi Luca ci racconterà. E l'ambasciatore ci ha aiutato moltissimo in questa operazione tutt'oggi di sostegno. La presenza nel Pakistan, la presenza italiana, è affermata appunto con successo da oltre mezzo secolo nel campo dell'archeologia e dei beni culturali, collega quindi in un certo senso l'ambasciatore ferrarese con Cafoscari. La più antica missione archeologica italiana, come dicevo, fu fondata nel 1955 da uno dei più famosi orientalisti italiani, Giuseppe Tucci. E appunto oggi è anche missione di Cafoscari. Alla nostra missione partecipano molti studenti di Cafoscari, sia triennalisti magistrali e dottorato di ricerca, sia altri studenti italiani, oltre ovviamente ai ricercatori. E tra dicembre dello scorso anno e febbraio, i ricercatori non solo di archeologia, ma anche linguisti e storici, hanno partecipato con delle ricerche alla nostra missione nello SWAT. In particolare, due docenti di iranistica del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, dove appunto si è laureato l'ambasciatore, hanno svolto ricerche presso appunto la missione. E un dottorando sta portando avanti nello SWAT, con il supporto della missione, il programma di studio sui manoscritti persiani del XIX secolo, che narrano le guerre antibritanniche delle tribù Pashtun dello SWAT. Il team di scavo operativo, fino a qualche settimana fa, includeva anche una studiosa di archeologia specializzata in paleobotanica, che oggi è ricercatrice presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea. Nel campo universitario, le relazioni fra la nostra università e il Pakistan sono solide, abbiamo diversi rapporti di collaborazione con le università, ne cito una in particolare, la Quaid Asam University, oltre anche, ricordo anche, il Kinnard College. Ovviamente, negli anni del Covid, le relazioni sono un po' arrestate, ma contiamo di riprendere con vigore le relazioni con le università pakistane. Questa università ha una connessione con l'archeologia e con la missione nella Valle dello SWAT, in quanto si lega alle attività di un prestigioso istituto di ricerca, il Taksila Institute of Asian Civilizations, e alla rivista di questo istituto partecipano da anni docenti, ma anche studenti di Ca' Foscari, sia nel comitato editoriale scientifico, sia come autori. Inoltre, presso questo istituto, l'istituto è diretto da un allunno di Ca' Foscari, il professor Ghani Ur-Rahman, che ci ha onorato più volte delle sue visite e che sempre apre le porte ai nostri docenti e studenti in visita presso di loro. Un buon numero di studenti di questa università è passato a vario titolo per le nostre aule, quindi abbiamo ospitato studenti provenienti da questa università. E ci auguriamo che vengano sempre più numerosi. L'interesse degli studenti pakistani, ce lo dirà anche l'ambasciatore, verso il nostro paese è alto. Molti studenti fanno domanda per venire a studiare nel nostro paese le discipline scientifiche, ma anche umanistiche. Noi, in particolare, ne abbiamo parecchi, anche al dottorato di ricerca in informatica, in ambito scientifico abbiamo parecchi studenti pakistani e il nostro auspicio è di poter ospitare sempre più studenti da questo paese e come sapete che Foscari ha sempre avuto fin dalle origini una vocazione verso l'internazionalizzazione e così ora, nell'epoca post-covid, speriamo di poter ospitare studenti di tutto il mondo come è stato fin dalle origini della nostra università. Ecco, io lascio subito la parola all'ambasciatore. Grazie per l'ascolto. Grazie. Intanto ringrazio tantissimo la magnifica rettrice Ziana Ripiego per questo invito e per aver organizzato questo evento e credo sia molto importante mantenere un legame tra chi sta frequentando l'università adesso e chi ha avuto in questa università la base per culturale e per costruire il suo futuro e credo sia importante mantenere questo rapporto. Quindi grazie tantissimo di aver organizzato ringrazio anche il professor Rivieri della sua presenza che noi ci vediamo spesso in Pakistan ringrazio tutti i partecipanti vedo anche le autorità militari con cui ho diviso molte missioni e gran parte della mia vita professionale. Per quanto riguarda oggi appunto siccome per gli ambasciatori in servizio non possiamo parlare di politica abbiamo scelto un tema che riteniamo possa essere utile specialmente chi sta frequentando questa facoltà perché come testimonio a mia presenza i vostri studi possono portare anche alla carriera diplomatica però punto la presentazione quando si parla diplomatico in genere non è sempre chiarissimo non lo era neanche a me quando ho cominciato che diplomatico è un aggettivo è un diciamo un atteggiamento può essere è un incarico ed è un mestiere perché dico incarico e mestiere per le tradizioni anche adesso secondo la legge italiana non è assolutamente previsto che l'ambasciatore sia per forza un diplomatico di carriera diciamo che è una tradizione consolidata ma quello dell'ambasciatore è un è un rapporto fiduciario tra il capo dello Stato che è una persona che lui designa a rappresentarlo infatti le cosiddette lettere credenziali che l'ambasciatore presenta all'inizio della missione al capo dello Stato ospitante è la stessa da più di duemila anni c'è una lettera in cui il capo dello Stato scrive questa persona parla e agisce in mio nome quindi è un incarico estremamente delicato per quello però ecco storicamente la diplomazia è diventata anche un mestiere e questo è importante quindi io credo sia utile darvi un breve escursus storico su come si è creata la diplomazia moderna e poi darvi un po' un'idea di distinzione tra quello che sono le continuità che da duemila anni e più caratterizzano il lavoro dell'ambasciatore e quello che sono i nuovi compiti che ha imposto e portato una nuova un'intensificazione a tutti i livelli dei rapporti internazionali che hanno aperto a nuovi campi e che hanno forzato la diplomazia a diciamo a sviluppare nuove competenze nuove capacità quindi diciamo diplomatico gli inviati sono sempre esistiti fin dall'antichità anzi più di adesso perché i re non potevano viaggiare quindi per pagare quegli altri re dovevano disegnare appunto con questa lettera credenziale di un inviato però storicamente ai tempi dei romani si chiamava legatus l'ambasciatore il legatus riceveva una lettera andava pagava però erano missioni saltualie non c'erano dei rappresentanti fissi e in tutta l'antichità gli ambasciatori erano persone che venivano occasionalmente disegnate tra i vari nobili ma non necessariamente o persone di grande capacità spesso erano anche dei religiosi o dei militari che ricevevano questo incarico andavano a pagare per conto e per nome del capo di uno stato c'è poi una parentela tra l'ambasciatore e il console che sono due carriere coincidenti ma che hanno funzioni diverse perché l'ambasciatore normalmente si occupava di politica il console invece delle questioni commerciali e della tutela dei mercanti e poi dei connazionali in genere e quando vedete nel canal grande ci sono questo fondaco dei tedeschi fondaco dei torcchi ecco il fondaco era un'istituzione che era antenato del consolato si è stabilito soprattutto con le repubbliche marinare durante il medioevo ed era uno spazio che conteneva in genere degli alloggi dei magazzini un forno e gli uffici dove stava un po' il responsabile di questa struttura nella Repubblica di Venezia in particolare per i giovani era obbligatorio fare il console quando un ragazzo aveva 14 anni fino a 14 anni studiava il greco il latino in famiglia poi veniva messo nelle navi militari dai 14 ai 18 dove imparava l'arte della navigazione e anche del combattimento e poi dai 18 ai 22 anni normalmente stava in una di queste basi commerciali quindi i ragazzi dovevano imparare a purtroppo già anche adesso non è una cosa facile la tutela delle imprese allora che c'erano anche minacce fisiche di sequestri di arbitri il il capo di questa struttura il console doveva in qualche modo tutelare quindi faceva sentire la presenza dello Stato di origine e tutelava un po' i suoi mercanti o un po' i suoi cittadini che andavano venivano arrestati c'era una presenza insomma però è stata la prima volta che si è consolidata l'idea di una struttura fissa e pian piano extraterritoriale cioè la tradizione per cui il governo ospite c'è una specie di diritto consuetudinario che non non poteva entrare in queste strutture comunque pian piano era un po' come c'era per esempio con la chiesa che si rifugiavano i criminali e non potevano essere arrestati così nel consolato si determina pian piano questa struttura retta appunto da un cittadino del paese c'era amalfitani genovesi napoletani tutti avevano le loro basi nel mediterraneo poi se prendete questo bellissimo libro di paolo preto che si chiama i servizi segreti di venezia lui da all'ambasciatore lo definisce spia onorata cosa vuol dire spia onorata che l'ambasciatore da sempre è stato e lo stato ospite lo sapeva è un informatore cioè è una persona che raccoglie informazioni sul paese lo fa legalmente lo fa si sa è un gioco basato sulla reciprocità e quindi e poi scrive al suo governo quello che succede nel paese che lo ospita questo è anche un altro aspetto di continuità è il lavoro che facciamo noi regolarmente incontriamo persone incontriamo politici accademici autorità religiose raccogliamo informazioni su quello che succede nel paese e poi la capacità è quella di informare il proprio governo in modo più corretto possibile di quello che sta succedendo e quindi dare anche dei consigli su quella che è la migliore azione da svolgere le cose sono cambiate però perché durante il medioevo gli ambasciatori erano molto apprezzati se riuscivano a scrivere molto cioè era il senato veneziano c'era la lettura era un po' come le telenovela televisive quindi entrava molto anche nei dettagli della vita privata dei regnanti e la capacità dell'ambasciatore era anche quella di riuscire a intrattenere il pubblico e poi era molto importante perché tutto in genere il senato le assemblee o comunque potenti sentivano con piacere queste relazioni adesso abbiamo il problema contrario invece perché il mondo politico è assedato dal problema del tempo quindi la capacità di un diplomatico oggi è quella di riuscire a dare delle informazioni essenziali ma che siano chiare leggibili e soprattutto concise perché i politici non hanno più il tempo di leggere molto quindi è inutile scrivere una cosa bellissima di 10-15 pagine che non verrà mai letta o verrà letta solo da pochi abbiamo avuto anche dei presidenti del consiglio che mi chiamavano e dice lei a pagina 7 ha scritto ecco ma sono rarissimi normalmente si leggono due pagine nel mondo moderno ma tutto in Francia Germania Inghilterra America quindi è cambiato una volta bisognava intrattenere adesso bisogna passare i messaggi in modo da essere sicuri che vengano recepiti ecco dalle repubbliche marinarie arriviamo al rinascimento dove i rapporti si fanno più complessi tra gli stati e quindi si sente la necessità di una figura che sia un professionista della materia perché si crea una specie di sintonia tra il regnante e i diplomatici per cui il regnante si aspetta un certo tipo di professionalità quindi nelle corti italiane cominciano a scambiarsi questi ambasciatori fissi che sono per un periodo tra i due e i quattro anni quattro anni per qualche mistero dopo i quattro anni scatta la sindrome di Stoccolma allora è il momento di prendere il diplomatico e di riportarlo a casa perché comincia a sentirsi più a casa nel paese a ospite e per qualche mistero il ciclo dura quattro anni adesso sono il quarto anno e comincio un po' a capire il perché di questo quindi si comincia a definire con Niccolò Machiavelli e tanti altri la figura del diplomatico professionista però ci ho detto molto spesso si creano anche dei sistemi binari in cui ci sono dei professionisti fissi che vengono alternati anche ad ambasciatori politici o comunque mandati ambasciatore è anche un modo per sistemare qualche personalità molto potente ma scomoda secondo il promoveato o il tamoveato in molti stati quindi non lo sanno quindi può essere comodo tenere anche però dal rinascimento e inizio dell'età moderna l'esigenza è quella di una diplomazia professionale stiamo parlando del rinascimento età moderna quando i rapporti degli stati erano quelli puri tra stato e stato perché c'erano poche entità che erano la stessa chiesa cattolica era uno stato che aveva la sua diplomazia il suo capo e nunzio apostolico e tradizionalmente rappresentante del papa e quindi ma era una cosa arriviamo alla seconda guerra mondiale dopo la quale già all'inizio dopo la prima c'era stata la società delle nazioni ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale si si sviluppano delle nuove forme nuovi soggetti di diritto internazionale che sono appunto le organizzazioni internazionali che hanno anche loro un vertice hanno una struttura interna e pian piano creano anche le loro diplomazie per esempio il rappresentante dell'ONU in quasi tutti gli stati anche l'Unione Europea che adesso è una forma avanzata però non è ancora una federazione di stati è una novità a livello internazionale ha adesso il suo rappresentante con cui lavoriamo tutti i giorni poi ci sono la FAO ci sono tutte le organizzazioni di tutti i tipi le banche di sviluppo quindi abbiamo dei nuovi soggetti e chi lavora in queste organizzazioni fa un lavoro molto simile a quello del diplomatico se non identico e quindi praticamente è un'estensione del mestiere che prende anche nuove 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 professionalità ma che comunque continua a lavorare come facciano i diplomatici una volta a questo si aggiungono altri soggetti che stanno riferando che sono le multinazionali cioè ci sono delle immaginate la Microsoft ha un prodotto interno gordo se vogliamo che è più grosso di quello di molti stati e anche queste multinazionali hanno dei loro rappresentanti che spesso negoziano con gli stati se non da pari a pari a volte anche da posizioni leonine quindi noi siamo abituati ad avere a che fare anche con questi personaggi che insomma rappresentano interessi ripeto a volte di maggiore portata rispetto a quello di molti stati quindi diciamo il lavoro si è molto complicato si è articolato e al diplomatico tradizionale è richiesta la capacità di interagire con queste nuove realtà ci sono poi anche organizzazioni non statali e lì entriamo in una cosa in cui un po' il ruolo della diplomazia si ferma quando parliamo per esempio di cose di fatto come erano le FARC in Colombia oppure sono delle realtà che hanno una loro struttura e contribuiscono a rendere ancora più complesso il panorama internazionale quindi diciamo adesso c'è una pretora di attori e andranno moltiplicandosi sempre di più e quindi però lo Stato resta ancora la base dei rapporti internazionali quindi qualcuno che in qualche modo incarna e rappresenta lo Stato è quanto mai non solo necessario ma di grande attualità un'altra caratteristica del messiere prima di continuare è che un ambasciatore deve fare cioè deve relazionare deve fare accordi ma deve anche essere molto importante l'ambasciatore è anche una figura iconica è un po' un punto di riferimento per tutta la comunità all'estero quindi è molto importante mantenere anche questa questa questo diciamo d'aspetto simbolico che è molto importante oltre che appunto quello delle azioni quindi essere e agire sono le due cose ad esempio chiunque avere un ambasciatore ospite o un matrimonio o un evento o una cosa è un problema quindi uno deve entrare nell'ottica anche di rappresentanza pura anche se a volte sono cerimonie lunghe noiose o comunque che possono essere giudicate superfue però la gente ha bisogno dei punti di riferimento e quindi bisogna anche svolgere questa funzione quindi abbiamo parlato delle funzioni tradizionali quindi in particolare rappresentare essere incarnare lo Stato all'estero riferire e mantenere i rapporti col governo con i governi ospiti queste le cose però il mondo è cambiato si va si va facendo più più compresso quindi si sono aperti nuovi compiti che sono di grandissima attualità e importanza e prima voi pensate che prima del covid in dieci anni i turisti cioè turisti le persone che viaggiavano da un paese all'altro per diversi motivi sono passati da 400 milioni a 1 miliardo e 200 milioni adesso stiamo ritornati a livello pre-covid cioè c'era una quantità di gente in giro enorme dall'Italia si registravano pre-covid circa 40 milioni di viaggi non viaggiatori spesso era la stessa persona che andava e tornava quindi ricordo quando lavoravo all'unità di crisi e c'erano dei problemi in Egitto ricordo a Sharmesheik c'era una presenza contestuale di 30 mila italiani abbiamo avuto l'uragano di Cancun c'erano 35 mila italiani a Cancun e quindi sono numeri molto grossi e poi c'è anche un'assistenza straordinaria ordinaria gente che rubano il passaporto rubano il portafoglio vengono arrestati vengono detenuti arbitrariamente c'è tutto quindi la tutela del connazionale che prima era un'attività abbastanza residuale adesso ha acquisito invece un'importanza notevole ha cresciuto poi dalla velocità dei mezzi di comunicazione perché una volta ricordo nel 98 mi rapirono un italiano nelle Filippine e uscì nei giornali il giorno dopo adesso esce nei giornali 8-9 minuti dopo quindi in 8-9 minuti bisogna già avere una posizione una risposta per reagire e soprattutto anche la necessità di interfacciarsi efficacemente con i media che è importante i media una volta il diplomatico poteva nascondere la testa sotto la sabbia aspettare adesso non è più tollerabile bisogna interagirci e farlo in modo serio e professionale perché se no è un disastro secondo adesso abbiamo credo 6-7 milioni di stranieri in Italia quindi c'è anche il retroterra per queste persone che vengono a lavorare a studiare per turismo per missioni per svariati motivi e anche lì c'è bisogna dare i visti a queste persone adesso sono diventati 4-5 milioni di visti l'anno quindi è un lavoro enorme e poi il retroterra le comunità qui immaginate uno che vuole portare i bambini e deve iscriverli a scuola bisogna fargli tutti i documenti per l'equipolenza cioè per trovare qual è la classe in cui un bambino pakistano indiano ivoriano può entrare in Italia ecco diplomazia economica è chiaro che le imprese sono private per definizione però hanno spesso bisogno dell'aiuto dello Stato per vari motivi e quindi per sostegno soprattutto per i grandi contratti il peso del governo dietro è molto importante se concorriamo a prendere la costruzione di una diga costa 400 milioni è chiaro che il paese che paga 400 milioni chiede delle compensazioni allo Stato di appartenenza della ditta che possono essere anche in settori diversi e poi bisogna dare informazioni cioè noi redigiamo normalmente delle informazioni sui mercati dove lavoriamo per dire alle nostre imprese venite non venite investite quali settori investire che tipo di settori quindi anche quello è dare delle indicazioni che queste persone che poi vengono spendono 5-6 mila euro per fare una visita non vengono a perdere tempo e poi adentrarli accompagnarli in questa loro missione abbiamo anche l'agenzia ITTA l'ICE che si è specializzata poi nel dettaglio dei rapporti commerciali e adesso dipende dal ministero degli esteri l'altra grossa branch di lavoro è quella della cooperazione allo sviluppo perché i paesi più sviluppati hanno destinato negli ultimi 30-40 anni importanti risorse per l'aiuto allo sviluppo e quindi bisogna anche dare una guideline in politica a questo tipo di attività per vedere che vadano nei paesi giusti o di nostro interesse o anche che siano dirette verso settori dove veramente c'è più bisogno o che comunque possono eventualmente anche fare da apripista a imprese italiane però sostanzialmente la cooperazione esula da logiche economico-commerciali ed è basata più su logiche umanitarie abbiamo poi parlato prima delle organizzazioni multilaterali anche lì le organizzazioni multilaterali sono essenziali anche come tutela degli interessi nazionali perché sono interessi che vengono tutelati collettivamente come quello del rispetto dei diritti umani i diritti fondamentali la pace internazionale e tutte queste cose si fanno assieme all'interno infatti tra i diplomatici noi abbiamo bilateralisti come me che non ho mai fatto organizzazioni internazionali o multilateralisti che sono funzionari che si specializzano nel funzionamento delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea e che possono più efficacemente svolgere questo lavoro e poi anche la componente securitaria è molto importante quindi c'è un rapporto anche tra diplomazia e forze armate per stabilire quelle che sono diciamo gli interessi nazionali anche le vulnerabilità e la necessità di agire in un modo o nell'altro l'altra novità è che mentre la politica estera una volta si faceva prevalentemente diplomatici adesso sempre più nelle ambasciate sono ospitate addettanzi militari uffici di addetti alla sicurezza del ministero dell'interno funzionari della guardia di finanza ci sono esperti scientifici ci sono esperti di varia natura a seconda quindi perché ecco la cosa che viene chiesta adesso all'ambasciatore è riuscire a fare sistema cioè a muovere armoniosamente tutte le componenti dello Stato che agiscono all'interno dell'ambasciata nei rispettivi settori io su questo ho sempre distinto molto perché noi non possiamo sapere tutto non possiamo entrare nei dettagli però è molto importante tenere un rapporto equilibrato e fruttuoso con appunto gli altri organismi dello Stato che rappresentano e hanno passaporto diplomatico accreditamento come gli altri e svolgono poi le rispettive funzioni ho pensato quindi l'altro lavoro questo che è molto complicato è quello amministrativo che un ambasciatore deve firmare deve gestire il personale i rapporti con i sindacati i movimenti interni e esterni dei collaboratori e poi anche la manutenzione della sede noi abbiamo delle ambasciate bellissime ma alcune di loro sono fatiscenti o richiedono grossi interventi e quindi anche fare questi lavori la gente che non non ha pratica si trova in difficoltà per cui bisogna fare anche questa manutenzione gestione poi fare ambasciatore io ho avuto circa miglia ospiti l'anno scorso in residenza per cui anche la gestione del ristorante catering cose tutto anche quello è molto importante e quindi diciamo c'è una grossissima varietà di talenti che bisogna avere e l'evoluzione andrà sempre cioè le cose andranno a diventare sempre più complicate per cui la capacità di coordinamento di fare il sistema acquisisce grande importanza però resta anche centrale la nostra mission tradizionale è quella di spia onorata appunto cioè di informatore ufficiale per il proprio governo perché è molto importante orientare le scelte e dare delle informazioni qualificate che possano guidare ecco adesso questo apre anche un grande un nuovo grande problema nel mondo moderno che è quello chiaramente se uno scopre di avere il talento per fare ambasciatore può essere che anche abbia il talento per andare a lavorare nel settore privato dove le gratificazioni soprattutto economiche sono infinitamente maggiori quindi è molto importante che diciamo quindi io ho tanti colleghi di università cose che sono andati a lavorare in borsa a fare gli avvocati a Londra e che insomma vivono molto meglio ecco non stanno pagando mutui o cose del genere sono quindi mentre servire lo Stato nonostante all'estero ci hanno delle gratificazioni maggiori che in Italia non è un lavoro con cui ci si arricchisce quindi richiede anche un forte senso di dedizione verso lo Stato la comunità perché chi arriva a certi lavori può farne anche altri oppure può vivere anche più serenamente quindi diciamo che è una scelta che richiede anche un forte senso dello Stato e di servizio alla collettività ecco quindi è molto importante all'altra parte dà anche delle gratificazioni di tipo anche estetico personale e tutto che magari anche vedo spesso abbiamo che fare io li chiamo i triardari ormai perché sapete che il mondo si è molto la gap è aumentata moltissimo tra diciamo questi grandissimi diciamo proprietari nel privato e il normale cittadino e rapporti con quelli per esempio anche la più bella delle nostre ambasciate non può fornire un'ospitalità un trattamento equiparabile a quello di queste persone però anche queste persone vedo che vengono spesso cercano anche quando hanno avuto l'assolutezza gratificazione economica cercano delle gratificazioni sociali come cavalierati riconoscimenti e tutto che invece noi tutto sommato dallo Stato che a volte è un po' avaro a volte è un po' difficile però alla fine ci concede insomma per cui vorrei chiudere dando questo messaggio insomma da studenti può sembrare un percorso un pochino difficile però ecco non bisogna lasciarsi cantare da chi dice che ci sono difficoltà raccomandazioni cose chi veramente vuole fare questo lavoro e ha le doti per farlo può farlo è una cosa io ero un po' spaventato all'inizio ho provato il concorso è difficilissimo e cose però vi posso dire che se volete veramente fare un'esperienza di servizio o dello Stato o della comunità internazionale nelle organizzazioni è possibile è possibile perseguite i sogni perché se veramente volete si realizzeranno ci sono momenti di difficoltà di quello che volete però se vorrete fare questo mestiere in qualche modo troverete la strada per farlo e devo dire che io insomma venendo la famiglia tutto sommato modesta che mio padre era professore con quattro figli all'Eco in cui non pagavano nulla in qualche modo Ca' Foscari mi ha permesso di avere una formazione che francamente non ho trovato pienamente equiparabile a quella delle maggiori università internazionali ho avuto delle borse di studio ho potuto studiare in Tunisia in Georgia a Parigi sono stato poi l'Università di Padova mi ha dato la preparazione gratuita mi hanno fatto studiare all'Ecole Nazionale d'Amministrazione in Francia quindi lo Stato mi ha dato i mezzi per superire quindi queste cose della famiglia della cosa del fatto che la diplomazia è una cosa di elite no ci si può arrivare lo Stato dà gli strumenti per farlo mantenendo delle università diciamo di altissima qualità quindi l'invito chiuderei così diplomazia è un lavoro che si è complicato ma che mantiene i suoi profili storici tradizionali secondo lo Stato a chi desidera diciamo sacrificare un po' troppo però insomma fare una scelta di servizio può dare gli strumenti per arrivare su quello abbiate fiducia e vi auguro il meglio per il vostro futuro grazie grazie ambasciatore per questa esaustiva relazione ora ecco grazie per questa esaustiva relazione sul complicato mestiere dell'ambasciatore abbiamo imparato molto io personalmente perché così tutte le sedi delle ambasciate che ho visitato vedevo che gli ambasciatori interpretavano un po' questa funzione complicatissima quindi oggi lei ci ha invece illustrato in cosa consiste prima di dare la parola al pubblico lascio la parola al professore Olivieri che avrebbe dovuto intervenire prima ma non ti ho dato la parola perdonami mi perdoni ambasciatore no anzi con questo cambio di scaletta involontario rende le cose più più bilanciate secondo me anche perché io vorrei cominciare da una domanda all'ambasciatore Ferrarese parlando della sua preparazione a Caffoscari e vista nella prospettiva della sua carriera brillante nella diplomazia quanto è stata importante la formazione linguistica che ha ottenuto in lingue che quando lei ha cominciato a studiarle probabilmente non sembravano economicamente utili ai fini della formazione professionale quanto è stato importante per lei questo visto che poi lei ha svolto gran parte del suo lavoro in sedia all'estero grazie professore ma guardi io ho studiato quattro anni arabo ebraico e giorgiano però Caffoscari per poter studiare arabo ebraico e giorgiano ho dovuto imparare l'inglese e il francese e lo spagnolo perché se no non si era accesso ai testi quindi mi ha dato un grosso vantaggio sugli altri ho un cervello medio ma avendo imparato l'arabo ci ho messo quattro anni per preparare il concorso diplomatico che ho studiato diritto internazionale storia economia e tutto ho studiato un anno e mezzo però francamente rispetto agli altri sono arrivato ottavo c'erano 25 posti al concorso abbiamo passato i 16 quindi evidentemente Caffoscari mi ha dato non solo una base molto forte ma anche una metodologia di studio molto importante che alla fine non ho mai avuto nessun complesso verso i laureati in legge o in economia o in altro per carità sono bravissimi però lingua orientale è una preparazione difficilissima e quindi se uno supera quello è in grado di superare anche il resto serve molta elasticità e tutto però assolutamente questa è un'università difficile impegnativa con professori esigenti però chi esce da qui non ha paura di altre sfide questa testimonianza mi incoraggia a raccontare qualcos'altro che invece è relativo più a quello che per esempio a me capita di dire durante le mie lezioni io insegno archeologia e storia dell'arte del Gandara in un dipartimento in cui sono l'unico archeologo di fatto a parte Sabrina Rastelli però che si occupa di un'altra area e la professoressa Vesco se non sbaglio non so comunque insomma l'archeologia è molto più importante in altri dipartimenti che non in quello sull'Asia e l'Africa Mediterranea prima il dipartimento di studi umanistici i grandi scavi dei colleghi del DSU sono rinomati importanti nel mondo noi però siamo riusciti a portare questa missione di cui ha parlato la nostra elettrice professoressa Lippiello all'interno del dipartimento all'interno di Ca' Foscari e siamo estremamente contenti che questo sia avvenuto sia per la realtà presente sia in prospettiva ora che prospettiva potrebbe dare per esempio per studenti che accedono al nostro dipartimento soprattutto per studiare lingua ad esempio c'è un campo di cui ha parlato ha accennato l'ambasciatore ferrarese che è quello della diplomazia multilaterale esistono molti interlocutori che oggi svolgono attività di carattere diplomatico e tra questi interlocutori che svolgono un'attività di possiamo chiamarla di side diplomacy per esempio ci sono anche le organizzazioni non governative quelle che sono generalmente afferenti ai progetti di cooperazione e dello sviluppo che in Italia sono coordinati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale già agenzia del Ministro degli Affari Esteri oggi agenzia appoggiata al Ministro degli Affari Esteri giusto ambasciatore? autonoma e questo oggi per esempio le organizzazioni non governative le banche di sviluppo le organizzazioni gli organismi internazionali di cui ha parlato l'ambasciatore hanno tutti quanti posto in maniera estremamente evidente dei loro cosiddetti menus cioè nel campo di interventi che loro propongono quello del cultural heritage perché si è capito nel tempo che le attività di cooperazione e dello sviluppo nel campo del sostegno e della protezione del patrimonio culturale è una chiara forma di attività di cooperazione per i ritorni che la gestione del cultural heritage può avere a livello di coesione sociale ad esempio e anche a livello di microeconomia o di economia regionale si pensa all'importanza del turismo archeologico che sta diventando sempre più importante anche nei paesi del subcontinente indiano ma poi c'è anche un altro aspetto che è quello di visto dalla parte di chi mette i soldi i cosiddetti donors è la questione della grande visibilità questo è un elemento molto importante perché è quello il lavoro nel cultural heritage si sta dimostrando sempre più quello appartenente diciamo come uno degli strumenti più importanti del cosiddetto soft power cioè della possibilità di interloquire con un paese in una relazione multio bilaterale presentando un lato neutrale della questione dei rapporti che sono rapporti professionali volti al mantenimento e alla come possiamo dire alla tutela di qualcosa che è universalmente riconosciuto come importante indipendentemente dalle differenze politiche dalle differenze religiose è riconosciuto universalmente come tale e di conseguenza ha un carattere di penetrazione molto importante ora vi sono tanti strumenti attraverso i quali ad esempio negli ultimi anni la protezione del cultural heritage nel mondo grazie all'aiuto del ministero degli affari esteri e la collaborazione delle varie ambasciate italiane sono stati messi a disposizione quindi vi ho detto innanzitutto c'è la possibilità di lavorare chi ha competenze linguistiche potrà fortemente avere accesso avere una posizione di avere accesso alle varie vacancies che le organizzazioni non governative mettono a disposizione anche in campi che non sono quelli necessariamente a cui gli studenti di lingue generalmente guardano cioè i campi professionalizzanti nella direzione commerciale economica va bene questo è un punto molto importante bisognebbe soltanto avere competenza linguistica e disponibilità a viaggiare c'è la capacità di sperimentarsi all'estero ora quali sono gli strumenti che invece ad esempio i governi ad esempio il governo italiano in particolare ha messo a disposizione negli ultimi anni per la protezione del cultural heritage c'è uno strumento che viene interpretato in questa modalità in modo completamente innovativo che è quello del cosiddetto debt swap cioè della cancellazione dei debiti che alcuni governi hanno nei confronti di altri per esempio io come direttore della missione archeologica in Pakistan grazie al sostegno dell'ambasciata del nostro ministro degli esteri ho diretto fino al 2017 un progetto di riconversione del debito che era gestito appunto da un importantissimo progetto di conversione del debito che era gestito dall'ambasciata italiana in Pakistan 100 milioni era il debito del Pakistan verso l'Italia 50% cancellato unilateralmente il resto 50% è stato riconvertito in attività di cui una porzione è stata dedicata ad attività di protezione del cultural heritage l'ambasciatore io sono stato molto contento di presiedere co-presiedere questo intervento dell'ambasciatore perché ho visto nel vivo di persona il contributo e il supporto che l'ambasciatore erede di una tradizione che è iniziata oltre 70 anni fa sta e continua a dare alle attività archeologiche e di supporto al cultural heritage in Pakistan dato dal contributo italiani ne ricordo due quello nostro di Ca' Foscari inaugurato dal professor Giuseppe Tucci il quale aveva anche il grado di ambasciatore tra l'altro era uno di quelli non diplomatici di ruolo che aveva il grado di ambasciatore e poi la missione dell'Università Cattolica di Milano nella regione del Sin nel sud del paese quindi siamo i due poli estremi del paese Pakistan è un paese importantissimo abbiamo quasi due miliardi di interscambio commerciale se non sbaglio la comunità pakistana in Italia è oltre 113 mila individui se non sbaglio 200 ecco sta crescendo siamo la prima la più grande comunità pakistana nell'Unione Europea seconda solo dopo il Regno Unito ovviamente e poi ci sono tanti progetti di cui l'ambasciatore qui non ha parlato uno tra questi importantissimo che sicuramente vedrà la luce in futuro è quello di riaprire l'Istituto Italiano di Cultura eh? vero? cosa di cui voglio chiudere raccontandovi un piccolo aneddoto esisteva un istituto italiano di cultura era a Karachi allora capitale del Pakistan ed è stato in piedi fino al 1965 o 66 ma dal 1956 appena iniziati noi abbiamo 75 anni di relazioni diplomatiche con il Pakistan le due giovani repubbliche si sono subito incontrate anche nello scambio commerciale tutte le vespe i prodotti piaggio che ancora circolano per il paese risalgono a queste importazioni queste esportazioni italiane degli anni 60 sostanzialmente bene ad un certo punto sapete chi era stato in eh nominato per diventare direttore dell'Istituto Italiano di Cultura l'ultimo sarebbe stato in termini temporali era Giorgio Manganelli Giorgio Manganelli scrisse successivamente di questo suo gran rifiuto perché decise di non andare perché si sentì quasi diciamo non ha proprio agio con quest'idea di diventare direttore di un istituto di cultura e se ne rammaricò e ne scrisse con rammarico di questa sua mancata scelta in diversi reportage che fece dal Pakistan pubblicati poi su Epoca sul Corriere della Sera negli anni 70 raccolti tra l'altro in un meraviglioso libro Cina e altri orienti pubblicato da Delfi alcuni anni fa che raccoglie tutti gli articoli di Giorgio Manganelli sulla Cina e gli altri orienti incluso appunto il Pakistan grazie grazie Luca io vorrei vorrei darvi la parola ma prima vorrei anch'io rivolgere una domanda all'ambasciatore credo di poter dire che l'ambasciatore ferrarese sia uno dei pochi ambasciatori almeno in Asia che conosca la lingua del paese in cui opera posso dirlo vero? è vero sono in perfezionamento sono in perfezionamento comunque non è nella nostra tradizione allora la domanda l'aveva toccata anche il professor Olivieri innanzitutto lei ha detto che è importante quindi il contatto con la realtà e poter riportare cosa accade nella realtà in cui si opera al governo quindi immagino che la conoscenza della lingua sia molto importante per poter quantomeno comunicare anche se ovviamente in Pakistan si conosce bene l'inglese ma sappiamo bene che comunicare nella lingua di appartenenza è diverso ci si rende più empatici e si riesce a entrare in un rapporto diverso più intimo con l'interlocutore allora la prima domanda è quanto è importante è appunto conoscere la lingua la seconda domanda è Cafoscari è nata come ben sa come una business school dove fin dall'inizio si studiavano le lingue europee ed extraeuropee quindi ha sempre avuto questa vocazione verso l'internazionalità per cui accanto all'economia e al management si studiavano le lingue e avevamo originariamente un percorso che si chiamava consolare e poi da qui si sono appunto diramate le due facoltà principali la facoltà di lingue e la facoltà di economia per cui si sono disgiunte in qualche modo le lauree in economia dalla laurea in lingue letterature straniere in lingue orientali era all'interno della laurea in lingue letterature straniere quindi si è persa un po' questa vocazione interdisciplinare che abbiamo avuto fin dalle origini e negli anni recenti stiamo cercando di riconquistare tant'è che sono nati dei corsi di laurea in economia e lingue e credo sia la direzione è un po' tornare indietro ma è la direzione verso cui vanno tutte le università del mondo allora quanto è importante la conoscenza della lingua e poi forse una domanda a cui non so se sa dare ora una risposta se con una laurea in lingue i nostri laureati possono accedere alla carriera diplomatica per quanto ne so io o no tant'è che abbiamo creato anche una laurea in relazioni internazionali dove però si studia un po' meno la lingua rispetto alla facoltà di lingue e cosa devono fare gli studenti per i nostri laureati per poter avere accesso alla carriera diplomatica avendo una formazione prettamente linguistica anche se adesso appunto come dicevo abbiamo anche degli esami di economia un po' in tutte le lauree in lingue grazie allora due domande prima la conoscenza della lingua certamente se una persona deve vivere in trisa nella cultura di un altro paese la lingua è importantissima ci sono dei paesi dove diciamo tutti parlano di lingue straniere quindi in qualche modo si riesce a fare il lavoro in modo esaustivo anche senza conoscere la lingua locale ci sono degli altri paesi dove invece non conosce la lingua è una forte limitazione c'è limita la tipo in Cina che non è così diffusa la conoscenza della lingua straniere se uno non conosce il cinese in qualche modo è molto più limitato io a fortuna in Pakistan parlano tutti inglesi quindi diciamo la conoscenza della lingua anche a livello di camerieri di cose quindi insomma è meno imprendente in altri posti è chiaro che chi non conosce la lingua è un pochino un pochino isolato oppure detto in positivo diciamo che chi la conosce ha un grossissimo vantaggio comparato ecco ci sono anche paesi intermedi dove io per esempio quando sono andato in Libano non ho detto a nessuno che parlavo l'arabo così capivo tutto quello che dicevano ma non loro non lo sapevano e quindi infatti quando ho fatto il discorso di saluto in ambasciata l'ho fatto in arabo con tutti gli impiegati che mi dicevano dietro di tutto ma non pensavo che io capisci che sono rabbrividiti no nelle trattative spesso si è al tavolo poi parla loro lingua dicendosi cose che noi non dovremmo capire invece capire è molto importante quindi diciamo che è fondamentale fondamentale e poi dipende anche quanto le ambasciate permettano il rapporto con la popolazione anche poter uscire stare in mezzo che è molto più facile poi per i diplomatici perché l'ambasciatore in genere è conosciuto quindi c'è sempre un po' mentre io i miei i miei giovani li mando fuori li invito a stare fuori li invito ad avere rapporti con tutte le componenti della società perché è importante ascoltare un po' tutti quindi la lingua è fondamentale da noi infatti tutti i nostri il mio vice molto bravo paga adesso sta studiando l'urdo paga l'arabo il farsi il farsi c'è stato per esempio utilissimo nell'evacuazione dell'Afghanistan dove molti molti dei dei fuggitivi erano Hazara quindi di etnia diciamo che parlano una lingua molto simile il dalino che è molto simile al persiano quindi lui e la moglie che è persiana hanno portato tutte queste famiglie in aeroporto li hanno fatto da interpreti quindi ci sono dei momenti ma anche a Roma la lingua per esempio quando lavoravo in unità di crisi che esistivamo i rapimenti in Iraq c'erano i comunicati in arabo che precedevano quelli dell'Ansa di circa 8-9 minuti quindi avevo il ministro che mi diceva traduci cosa ha detto io mi trovavo in questa situazione tremenda perché se facevo un errore nella traduzione dall'Arabo usciva l'Ansa 15 minuti dopo dicendo qualcosa di contrario quindi ogni volta incrociavo le dita c'era mi ricordo il ministro D'Alema che mi diceva sempre sto per ripeterlo a 4 milioni di persone le auguro che sia una traduzione corretta e poi quando grazie a Dio è andata sempre bene poi diceva no ma D'Alema sa sempre le cose prima come è possibile e invece era dovuto il mio lavoro qui dell'Arabo che quindi è stato apprezzato l'Arabo l'ho usato anche per negoziare con per diciamo anche molte questioni difficili anche pagarci direttamente è stato molto importante e così quindi dipende però senz'altro ecco più meno sono pagate le lingue straniere nel paese più è fondamentale riconoscere però diciamo che la componente linguistica si deve anche rafforzare un po' nel nostro ministero e quindi diciamo che è importante ma non determinante nell'assegnazione di un paese ecco io ero lavorato in arabo ma mi hanno mandato nelle Filippine come primo paese quindi non è determinante però ripeto è molto importante il tipo di apertura mentale che è diverso quindi uno può avere una gap all'inizio con i laureati in legge in economia ma dopo c'è un recupero che è quello appunto di conoscere perché la lingua orientale si impara non solo la lingua ma anche la mentalità di un paese e si impara soprattutto quanto sono complicate le mentalità degli altri paesi quanto sono estremamente la Cina che ha la sua tradizione enorme millenaria quindi già il fatto di essere abituati ad avere davanti una mente completamente diversa è un vantaggio grosso insomma fin da giovane per quanto la laurea adesso non ho le ultimissime notizie ma insomma io quando studiavo qui non era possibile l'accesso alla carriera diplomatica infatti il mio progetto era di fare 7-8 esami a scienze politiche e prendere la laurea quindi con un anno un anno e mezzo due anni in più diciamo se uno qua si laurea 23-24 anni può laurearsi in scienze politiche a 26 o in storia e poi fare l'esame a 26 cioè c'erano quattro tentativi possibili quindi lei ha fatto la laurea a Padova e ha visto riconosciuti i disani no no io ho finito qui poi per un anno hanno aperto a lingua orientale per alcuni anni quindi non ho dovuto sono andato direttamente alla CIOI la sezione di Padova e lì ho potuto abbiamo fatto un corso super accelerato e ho potuto passare ma ancora lingue ho solo la lingua la laurea in lingue letterature orientali adesso ci sono tutte queste università più o meno sono personaggi con scienze delle astrate cose sono 6-7 lauree però io non ho mai avuto il tempo da quando sono entrato ne ho solo una che è questa qui tra l'altro oltre alla lingua parlata la lingua scritta perché c'è l'accesso alle fonti e questo è molto importante e anche ai giornali locali questo è molto importante gliel'ho chiesto perché c'è un grande dibattito a livello europeo sulla conservazione anche delle lingue cosiddette minori noi abbiamo l'Urdu a Ca' Foscari forse non frequentatissimo lei consiglia di mantenere tutte le lingue noi lo stiamo già facendo da anni cerchiamo ovviamente sono costose queste lingue per noi soprattutto quando non abbiamo i lettori e non abbiamo abbastanza studenti quindi la tendenza generale in Europa è di chiudere le lingue con pochi studenti noi invece abbiamo mantenuto la tradizione delle oltre 40 lingue anche le lingue poco frequentate ma credo che un paese di 60 milioni di persone debba avere almeno due cattedre una o due cattedre anche per le lingue cosiddette minori e secondo anche gli studenti sono un po' mio più a volte ricordo l'orientare di Napoli che faceva il tigre c'era uno che studiava tigre lo prendevano in giro tutti poi quando sono andati a fare i concorsi per i ricercatori lui era l'unico che sapeva il tigre e ha avuto a 25 anni uno stipendio di 3 milioni e 6 mentre gli altri erano tutti a spasso quindi voglio dire a volte la lingua minore può dare intanto c'è meno gente con cui competere e poi può dare un accesso a una sorta di monopolio verso un paese per le persone per cui poi sta anche all'inventiva cioè di riuscire a pubblicizzare e a presentare paesi in cui si ma ripeto un paese come l'Italia deve avere io sono profondamente convinto deve avere tutte le lingue anche se sono ecco quello può essere utile eventualmente metterla come seconda lingua per molti ma togliere le cattedre no no non è possibile cioè ci sono delle cose minime che un paese del G7 deve avere insomma la parola al pubblico al microfono sono Alessandra Chinaglia e volevo ringraziare l'ambasciatore la rettrice il professor Olivieri per questa ma emozionalmente anche sentita lecture io sono come vedete una viaggiatrice pakistana non sono pakistana sono cittadina del mondo mi sento nata in Croazia vivo a Venezia ho una professione per cui ho studiato in Inghilterra e negli Stati Uniti ma nell'ultimo periodo della mia vita ho scoperto il Pakistan casualmente attraverso il Messner il fratello più piccolo di Messner è un mio collega psicoanalista che ha studiato con me nella clinica di Anna Freud io volevo ringraziare l'ambasciatore perché ha parlato della evoluzione la continuità del pensiero del diplomatico e del mestiere del diplomatico con un pathos per cui io penso che tutti compresa io abbiano pensato io personalmente peccato non essere giovane e intraprendere questa carriera per cui un invito ai giovani l'altra cosa per cui vorrei ringraziare è l'immagine che lei ha scelto perché quando io l'ho vista facendo uno dei miei viaggi nella Indus Civilization questa immagine è stata una delle più belle immagini io sono una traveler proprio di come dire cronica tra l'altro madre anche di un professore vostro che si occupa dell'Industan e quando ho visto questa immagine per me è stata una delle più belle che io ho visto nella mia vita e volevo anche Texila che è stata il primo posto che io ho visitato oppure altri posti dei vestigia buddista o Mangara Hart devo dire mi sono sentita così europocentrica ma ho sentito gli altri che dobbiamo imparare moltissimo da queste culture e da queste altre lingue orientali che tanti miei amici hanno intrapreso come carriera grazie buongiorno mi chiamo Fabio Moretti molto interessanti le cose che ha detto ambasciatore e io volevo farle una domanda io sono veneziano acquisito non sono veneziano di nascita ma amo molto questa città mi sento molto legato a questa città so che anche lei è molto legato a questa città e allora mi chiedo e le chiedo la sua venezianità ha avuto un ruolo nella sua carriera? grazie la ringrazio di essere venuto e oggi anche di questa domanda beh Venezia sì quello è molto importante studiare in una città del genere anche perché ti trasmette una tradizione e cui è resistibile tutti quelli che studiano qui girano i palazzi e cose lo prendono la diplomazia moderna è nata in larga misura qui diplomazia e intelligence tutte e due a Venezia non dimentichiamo Venezia ha avuto anche la prima intelligence organizzata quindi c'è questa doppia questa doppia tradizione che viene respirata in questa città quindi è molto importante per cui senz'altro diciamo la vi è da una parte la consapevolezza di una grande tradizione che viene anche da molti dei ex stati italiani con cui non è molto importante porci di fronte all'ambasciatore inglese francese cose con un po' questo orgoglio che ci hanno sempre riproverato i veneziani così che però francamente è anche un po' il nostro vanto quindi sicuramente ci aiuta da una parte anche inter relazionarci con gli altri sapendo che abbiamo una tradizione che non è seconda a nessuno terzo poi Venezia ha avuto anche un'influenza nella storia mondiale che va oltre ad esempio c'è stato Benjamin di Israele il primo ministro inglese che era di una famiglia ebraica veneziana lui si chiamava Medina era una famiglia sefardita che è emigrata in Gran Bretagna si è convertito è diventato di religione anglicana credo e lui ha portato per l'impero britannico la stessa diciamo grande strategia che aveva la Repubblica di Venezia cioè quella di costruire un potere basato in Oriente che era l'attuale appunto Indo-Pakistano tutto l'impero inglese con una serie di basi commerciali inglesi avevano Suez avevano Hormuz avevano Cipro avevano Malta e avevano Gibraltar quindi questa idea è stata proprio mutuata da Israele dalla Repubblica di Venezia per plasmare il moderno impero inglese quindi Venezia viene ha una soft power una proiezione enorme all'estero che aiuta moltissimo chi viene da qui e secondo anche è molto importante quindi respirare la città durante gli studi cioè che gli studenti vivano l'università ma anche la città e poi saper riconoscere quello che è stato dato appunto negli scenari internazionali più grandi una volta sono andato a Washington in missione c'era un'analisi congiunta e c'era uno dei maggiori analisti del sistema americano mi ha detto io sono sposato con una patrizia veneziana che vive a Londra si chiama Michele hanno chiamato la figlia con un nome veneziano anche quindi come vede si ritrova a Venezia dappertutto ritorna è molto bello anche leggere Il diplomatico sorridente che è un libro poco noto lo ha scritto tale Daniele Vare che è molto bello perché spiega poi come i giovani veneziani dell'epoca si riversarono con entusiasmo nella creazione dello Stato italiano in cui hanno visto la prosecuzione naturale dell'eredità veneziana e si sono messi a disposizione Daniele Vare è stato ambasciatore in Cina e la lettura delle memorie è estremamente divertente e formativa quindi senz'altro studiare qui comporta anche la responsabilità di continuare nell'ambito delle rispettive funzioni anche a portarsi dentro un po' della tradizione di Venezia Salve buongiorno sono una studentessa al primo anno di lingua cinese quindi faccio parte di una generazione abituata insomma cresciuta con la tecnologia in modo molto serio e volevo chiederle qual è diciamo l'impatto l'effetto che ha una carriera del genere un'esposizione sui social a cui magari noi siamo più abituati rispetto alle vecchie generazioni grazie una bellissima domanda estremamente importante infatti ho toccato solo marginamente la cosa recentemente la direzione generale della diplomazia pubblica che è stata recentemente istituita ci ha dato anche le guidelines per lavorare sui social e riconoscendo che ormai chi è fuori dai social non 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 dico non esiste ma insomma ha una visibilità molto limitata allo stesso tempo i social sono per chi dice ricopre una funzione pubblica possono essere anche estremamente sensibili la cosa importante chiunque può insultare un politico se lo insulta un cittadino comune non è niente se lo insulta un rappresentante dello Stato diventa un problema gigantesco quindi social va usato con estrema cautela però allo stesso tempo non si può pensare di vivere al di fuori per cui hanno dato delle guideline agli ambasciatori a volte ci sono state degli eccessi dei miei colleghi ci hanno rimesso il posto per colpa del social perché gli è scappato un tweet di troppo che non andava però allo stesso tempo uno che non non è in grado di interagire con i social non i social sono un moltiplicatore enorme anche quando il professor Olivieri abbiamo presentato in ambasciata la sua scoperta di questo tempio buddista antico dentro una vecchia polis greca è stata eccezionale abbiamo fatto un evento in ambasciata c'erano 40 giornalisti grazie ai social ha toccato più di 3 milioni di persone la notizia è stata rimbalzata dappertutto quindi dominare cioè gestire i social è diventata una nuova una delle nostre nuove competenze va fatto io ritengo con da una parte la volontà di approcciare dall'altra non è snobismo ma cercare sempre di ricordarsi che uno è un ambasciatore quindi deve sempre tenere perché certi ammicamenti certi comportamenti un po' d'amiconi nei ambasciatori danno fastidio cioè anche gli stessi politici dicono guardi se devo fare la battuta la faccio io lei faccia il suo mestiere e lo faccia in modo composto quindi l'arte è quella di riuscire ad essere ambasciatoriale cioè tenere uno stile sempre però allo stesso tempo aperto perché non vuol dire che mantenere un certo tipo di compostezza di cosa voglia dire essere chiusi semplicemente la gente deve capire io faccio il mio mestiere quindi non può aspettarsi un certo tipo di ecco a volte qualcuno pensava non so mi tolgo la cravatta faccio c'era un ambasciatore tedesco in Pakistan che si vestiva dal pakistano si faccia le foto ma alla fine qualcuno era simpatico ma è un eccesso che ecco chi fa sto mestiere deve essere se no gli altri se uno vuole fare un po' così l'istrione liberissimo ci sono migliaia di altri mestieri per farlo ma questo preclude un certo però ripeto lei ha ragione i social media vanno assolutamente ingaggiati non si scappa ma credo l'abbiamo fatto se vedete i nostri tweet sono andati benissimo in ambasciata e facciamo eventi continuamente se andate a vedere su internet troverete tutto il nostro lavoro dell'ambasciata gli incontri delle cose però ecco ripeto per l'ambasciatore può anche essere si gioca un po' col fuoco a volte buongiorno ambasciatore io sono una studentessa dell'ipartimento di lingue moderne quindi non studio lingue orientali ma avrei una domanda piuttosto ricollegandomi alla battuta con cui lei aveva iniziato il suo discorso prima cioè sul fatto che un ambasciatore non fa politica e forse è il discorso che ha fatto anche adesso volevo chiederle se si è mai trovato in difficoltà in una situazione che magari richiedeva un certo sforzo nel scindere le proprie idee le proprie opinioni magari i propri ideali personali dalla figura che lei rappresenta quindi anche la figura di rappresentanza che lei deve mantenere nei rapporti internazionali sì grazie un'altra domanda molto interessante importante no prima ho detto che non posso parlare di politica oggi perché per parlare di politica devo avere un permesso speciale del ministero quindi se mi dite qual è la posizione dell'Italia su questo 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 non è questa la sede questo normalmente li fa gli ambasciatori in pensione cioè quando non sono più che possono dire quello che vogliono dopo 40 anni però ecco quello è molto importante sì ci sono ambasciatori come dicevo politici il nostro mestiere è la politica cioè noi siamo un lavoro politico facciamo politica però una cosa è definire la politica una cosa è concretizzarla o realizzarla quindi per quanto riguarda un funzionario un servitore dello Stato un prefetto un generale un diplomatico è noi dobbiamo servire il governo in carica senza metterci del nostro se uno ha il talento per fare l'ambasciatore vuole portare certe idee va fuori si cosa si fa leggere in Parlamento e fa il suo lavoro in Parlamento di politico può avere tutte le idee che vuole io ho servito con governi di centro-destra e centro-sinistra e ho sempre eseguito in modo diciamo sia di fatto di de facto perché poi c'è anche il modo in cui si fanno le cose ho sempre eseguito le indicazioni del governo in carica questo anche i miei colleghi militari lo potranno dire siamo abituati non è che posso dire a me non piace le idee del ministro per cui non lo faccio no se uno vuole agire diciamo a livello di idee è liberissimo di farlo ma lo fa altronde un ministro se viene eletto dal popolo si deve aspettare che i funzionari facciano quello che dice lui questo è quindi diciamo però questo non vuol dire non fare politica nel momento in cui arrivano delle indicazioni chiare a quel punto noi diciamo portiamo avanti la politica del paese però le indicazioni devono venire dalla politica se no c'è un guasto sistemico quindi se uno ha delle idee che ritiene cioè se uno non ritiene di poter fare certe cose non condividere certe cose da un governo in carico deve fare un po' un esame di coscienza e dire va bene è una cosa rispettabilissima ma non può fare il funzionario buongiorno ambasciatore io vorrei porle una domanda che fosse un po' troppo specifica io ho fatto 21 anni di console di spagna qui onorario e con caffoscere ho avuto un'ottima legame e relazione perché ho ottenuto delle conferenze anche degli stage da me di questi che si sono dimostrati molto interessanti anche io ho fatto scienze politiche però ho una domanda specifica che le rivolgo e adesso c'è un problema col pakistan e con l'italia a proposito dell'uccisione della figlia delle campagne di verona da parte dei parenti e che adesso senz'altro sarà anche un po' non dico preponderante ma anche da parte dell'ambasciatore interessarsi perché ci sia l'istradizione del padre qui in Italia per il processo ho capito qui entra proprio nel mio lavoro specifico per cui non posso dare una risposta in questa serie io ero interessato in quello perché tutto quello che lei ha detto e ha esplicitato era lavoro anche mio seppure in tono diverso dell'ambasciatore ma questa è una cosa che mi interessa perché è una cosa di attualità ma anche con i giornalisti non rilasciamo in questa fase almeno non sta a me deve farlo il servizio stampa del ministero quindi in questo caso rientra proprio tra le cose di politica sicuramente voi come ambasciatore ne siete interessati no non voglio dire in questo caso ma quando succedono queste cose sicuramente avete anche voi il vostro ruolo all'interno ho seguito anche il caso Battisti quando ero in Brasile ci sono dei casi molto complicati così per cui però di l'attualità mi dispiace le direi volentieri perché c'è tutto un bel grado ma non non ho facoltà però mi lasci commentare che effettivamente ecco quello che non vi ha toccato il mestiere del consul onorario che sono figure importantissime io ne ho nominati dodici in genere il consul onorario è una figura che risale anche quella proprio al Medioevo e anche prima che tutte le società e i rapporti marinari che ci sono stati erano proprio delle legazioni queste figure che dopo sono diventate i consuli infatti il consul onorario viene nominato anche lui dal presidente della Repubblica però mentre le lettere dell'ambasciatore si chiamano lettere credenziali quelle del consul si chiamano lettere patenti che è anche un antico quindi lei avrà avuto da lei di Spagna la lettera patente indirizzata al nostro presidente con il suo nome e che eserce una serie di prerogative che vengono individuate con un decreto del capo dello Stato poi i consul onorari ce ne sono anche insomma di sono figure spesso anche molto molto prominenti nel paese ospite quindi e sono di grandissimo aiuto conoscono il territorio molto meglio e poi con le restrittezze economiche dei paesi d'invio si appoggiano soprattutto ai consuli onorari infatti ho sempre nominato dei miliardari per questo che possono dare un aiuto enorme nei rapporti economici sono rizzati no no ma anche spesso sono figure che hanno un grosso grossissimo anche con la convenzione di Vienna c'è abbastanza equiparato il console di carriera sì anche lì conta molto la persona ci sono dei consuli onorari che hanno un'influenza enorme e spesso sostengo dicono di no l'ambasciatore l'ambasciatore chiama questo console onorario questo chiama i suoi amici nel governo e poi avviene un sì quindi sì sì è una figura molto versatile e io dovunque sia andato ho cercato di aprire dei consulati onorari anche per le ragioni di budget che è poi molto importante se c'è uno in tutto in tutto se sono sparsi per il territorio in Brasile avevamo 100 consuli onorari per cui abbiamo fatto anche la la giornata del console onorario e abbiamo sono arrivati 100 e abbiamo visitato l'Itamarati che è questo ministero costruito da animali tutto moderno e i brasiliani a sconvolto siamo arrivati in 150 con tutti questi consuli che mogli avevamo fatto una visita guidata e anche un paese come in Brasile sono 200 milioni di persone senza questa rete di corso di onorari non la gestiremo grazie grazie però dico ai ragazzi agli studenti seguite la carriera diplomatica era importantissima ma soprattutto che vi realizza vi apre il cervello e le comunità culturali grazie così generoso nel fornire informazioni posso fare una domanda agli ambasciatori qual è il ruolo delle onorificenze nella diplomazia nei rapporti bilaterali beh le onorificenze diciamo le potete vedere se aprite il sito della presidenza della Repubblica ci sono tutti gli ordini ci sono le efficenze civili militari al lavoro e è stata molto importante anche l'istituzione della stella d'Italia no? che è molto le onorificenze sono una cosa che fanno un estremo piacere devo dire l'ultima l'ho avuta quella di cavaliere ufficiale nel 2017 nonostante non sono più giovanissimo però ricevere questo cartellone firmato dal Presidente della Repubblica dal Ministro fa un piacere enorme fa piacere ai servitori dello Stato e fa un grandissimo piacere anche ai privati a cittadini che all'estero l'ambasciatore individua e premia con c'è l'ordine al merito della Repubblica italiana si chiama Omri che ha 5-6 gradi credo cavaliere cavaliere ufficiale commendatore grande ufficiale e poi c'è cavaliere di gran croce che è quella gigantesca e c'è anche l'ordine della stella d'Italia a tre gradi che sono cavaliere ufficiale e commendatore e questa fa diciamo una persona che viene chiamata in generale che ha reso servigio all'Italia italiano straniero viene convocata noi facciamo le proposte ogni anno e poi viene decorata in ambasciata normalmente in occasione della festa nazionale 2 giugno quindi è una cosa soprattutto sono ricercate come anche i consulati onorari perché chi riceve un'onorificenza viene anche scrinato in modo estremamente certosino dalla guardia di finanza in Italia quindi una persona che ha un'onorificenza quando va a fare affari in Italia con italiani e tutto il suo interlocutore sa che è una persona per bene se no non riceve né il gradimento come il console né l'onorificenza quindi è anche una grossa scorciatoia per tenere dei rapporti sociali perché chiaramente se sa che è una persona decorata sa che è una persona di cui che offre certe garanzie che ti potete portare quindi è uno strumento importantissimo per cui con una rosetta piccolina e un foglio si fa veramente contento una persona e spesso è anche un punto di ragionamento importante nella vita professionale e un modo di premiare chi ha servito in modo particolare l'Italia buongiorno a tutti mi chiamo Gada Nauri e sono studentessa alla laurea magistrale in relazioni internazionali e comparate e volevo chiedere all'ambasciatore quale rapporto deve avere l'ambasciatore con la società civile e i partiti politici grazie beh allora per quanto riguarda la politica è molto importante come dicevamo prima l'ambasciatore fa riferimento al ministro in carica e prende istruzioni da lui però ciò detto a me è capitato spesso di avere anche le delegazioni parlamentari esponenti dell'opposizione bisogna fare istituzionalmente il proprio lavoro quello è importante conoscere bene le regole del gioco e poi ognuno fa la sua parte io mi sono trovato anche una delegazione in cui un membro della delegazione durante la missione si è messo a pagare male del governo io mi sono fatto da parte sono stato zitto non ecco non gli sono andato vicino non ho battuto le mani però voglio dire è un parlamentare può fare quello che vuole ecco ciò detto però l'ambasciatore dice e fa quello che gli dice il ministro in carica il ministro degli esteri ciò detto non è che l'ambasciata sia chiusa cioè se vengono rappresentanti di altri partiti politici o cose è normale che gli si faccia anche un pranzo una cena gli si presentino ecco delle persone se chiedono se vorrei incontrare esponenti per esempio delle associazioni ambientaliste o delle associazioni per l'abolizione della pena di morte o della capita l'ambasciata in genere dà un servizio anche anche ad esponenti politici o opposizioni però nel linguaggio l'ambasciatore ripete pedissequamente quello che dice il suo ministro in carica se poi il ministro cambia viene uno che dice esattamente il contrario l'ambasciatore ripete esattamente il contrario di quello che ha detto il mese prima però ripeto questo è ma nel momento in cui una persona è solidamente professionale è anche libera di muoversi perché ci sono delle regole del gioco se ognuno rispetta le regole del suo ruolo poi l'interazione diventa abbastanza semplice se uno non sa fare il mestiere e si mette in posizioni balorde che non equivoche e cose ecco è molto importante essere chiari su questo quindi società civile noi ci dobbiamo interagire assolutamente in Italia e all'estero si sentono tutti si raccolgono le opinioni di tutti il problema non è quello che si recepisce il problema è quello che esce dall'ambasciatore ma se una persona è accorta in quello che dice ha un linguaggio sobrio e chiaro si possono anche avere delle critiche delle discussioni non è quello se non posso rispondere non rispondo faccio un sorriso e basta però non interagire invece è un problema cioè se uno non è in grado di interagire con le società civili del paese ospite no meglio che cambia mestiere è un po' rischioso però non si può chiudersi dentro ecco quello no però ci vogliono molte accortezze ecco quello sì lo stesso anche anche quel paese ospitante è lo stesso cioè quello per esempio in genere quando vado a vedere qualcuno dell'opposizione informo prima il ministero degli esteri dico guardi che vedo questo senatore così giusto che non lo reggano nei giornali ma poi c'è anche una certa flessibilità però tutto va fatto con senso dell'opportunità che per cui lo dico è un lavoro politico e uno deve sapere deve sapere muoversi insomma ecco non finire in dei pasticci in delle situazioni ballone quello è l'abilità proprio politico diplomatica è una professione non andare a incunearsi per esempio quando lavoravo in Libano l'ambasciatore doveva vedere tutte le parti no cioè in Libano è una repubblica confessionale ci sono 18 confessioni 12 musulmane 7 5 no 12 cristiani 5 musulmane e poi gli ebrei che ce ne sono ancora 3-4 ma ufficialmente risultano la 18esima confessione libanese è chiaro che uno non può vedere solo i cristiani e non i musulmani o solo gli sciiti e non i suniti quindi l'ambasciatore era perennemente vedeva un cristiano andava a vedere un musulmano vedeva un cristiano della maggioranza andava a vedere un cristiano della minoranza cioè bisogna riuscire a e lì è proprio l'abilità di muoversi quello sì è un'attività che ha anche dei rischi però insomma si fa Buongiorno l'abbasciatore grazie è stato interessantissimo io volevo ritornare al discorso della formazione linguistica e in particolare dei suoi collaboratori e in relazione al lavoro che diceva di intelligence volevo sapere gli italiani che arrivano i funzionari che arrivano a distanza alla vostra ambasciata o ai consolati possono ricevere in situ formazione linguistica penso all'URD nel suo caso specifico quando è ritenuto necessario per svolgere appunto quel lavoro di diciamo di intelligence o comunque di conoscenza dettagliata di una situazione di circostanze fare l'analisi di cui avete bisogno oppure vi affidate a personale locale che resta con voi nel corso di tanti anni e quindi è variato e garantito diciamo grazie no grazie della domanda intanto mettiamo ben chiaro qui parlo di diplomazione l'intelligence è un altro mondo di cui non ho titolo a parlare in questa sede quindi è un altro settore per quanto riguarda le ambasciate no da noi è incoraggiata la formazione linguistica senza altro il problema è più logistico nel senso che siamo sempre pochi e sottostaffati e quindi da una parte ti incoraggiano a studiare le lingue dall'altro uno dovrebbe farlo dalle 9 alle 10 di sera perché a Farnesina si fanno le 9 di sera tutti i giorni e quindi uno arriva sfinito e non ha il tempo però vedo che nella mia ambasciata siamo tre funzionari più abbiamo un console generale console a Caracci e parliamo tutti l'arabo due stanno imparando i falsi e poi stiamo cominciando perfezionando l'urdo anche quindi a tempo palestero ci sono degli stipendi insomma si vive abbastanza aggiatamente perché uno ecco normalmente si paga da solo un professore ecco questo è però è possibile avere anche dei corsi di lingua delle cose la cosa è incoraggiata ed anche dei titoli perché chiaramente chi ha più titoli linguistici in genere ha anche maggiore accesso a certe sedi rispetto ad altre persone insomma più sicuramente è incoraggiato aiuta e ripeto non è solo la lingua perché uno può anche parlare sempre inglese ma sapere perché la lingua spiega come è fatta la testa di uno che è diversa con il cinese è un'altra testa e quindi se uno non si abitua a è anche molto importante la semantica poi noi diciamo una parola a cui attribuiamo un significato gli altri capiscono tutt'altro quindi anche quando parliamo in inglese per mai l'inglese che parliamo è una specie di coiné che con l'inglese dell'Inghilterra ha poco a che fare è una specie di ma noi diciamo peace per loro per certi popoli peace per noi la pace per loro non so la tranquillità cioè associano diversi concetti quindi se uno non si abitua a a comunicare esattamente quello che vuole dire e lì restano delle gap dei misandestendi che poi è difficile è difficile gestire per cui a volte due se ne vanno che hanno capito tutti e due sono convinti di una cosa che è diversa per cui la lingua orientale aiuta a capire com'è fatta la testa di quel popolo ma anche a capire che i popoli hanno delle teste diverse quindi io adesso non so i cinesi però quando ho lavorato molto con i cinesi mi sono abituato a cercare di capire come pensano come sono fatti perché era la mia formazione quella e quindi alla fine ho avuto certa più facilità avere a che fare con questi tai kung li chiamano questi grossi esponenti cinesi all'estero con cui prima o poi uno si ritrova proprio perché perché hanno cioè perché qui ci si abitua la lingua orientale abitua all'umiltà intellettuale ci abitua a capire che c'è l'altro che ha un meccanismo mentale quindi devo capire il suo meccanismo questo è il più grosso contributo che viene dalla lingua orientale poi uno può riprendere in due anni si può fare tutte le altre materie ma questo tipo di approccio poi è di grande aiuto nel lavoro è verissimo quello che dice lo studio della lingua orientale ti abitua ad essere umile verso gli altri e avere anche un atteggiamento di umiltà nel senso di voler ascoltare più più che di voler parlare perché ascoltando si conoscono le persone la conoscenza delle culture direi non solo della lingua ti abitua a questo approccio con le persone ne approfitto ambasciatore per chiederle se ha stagisti in ambasciata in questo momento no però mi vanto di aver fatto passare il concorso a otto stagisti per cui c'è tutto un drappello di persone che ho formato nelle ambasciate e c'è stato questo c'è un accordo tra il MAECCI e la conferenza rettore università italiane per mandare degli studenti che possono essere sia studenti in corso di laurea sia post laurea e a fare proprio a lavorare dentro le ambasciate lavorare per tre mesi la cosa fu sospesa all'epoca perché criticarono che non venivano pagati ma noi abbiamo detto intanto non pagano neanche noi che li formiamo e poi anche in studi di avvocati cose la gente va a fare questi stage gratis per cui invece poi si cercava di aiutarli con gli alloggi però senz'altro è un'esperienza utilissima io li ho usati in modo spregiudicato abbiamo fatto cose divertentissime molto aperte e poi abbiamo insegnato anche a fare i telegrammi a scrivere come va scritto per i politici questo è molto importante quindi abbiamo fatto queste continue redazioni che anche l'esercizio importante per un diplomatico che è un ambasciato è quello di non prendere appunti perché quando uno è un ricevimento cosa gira sente una cosa qui una cosa qui si deve ricordare esattamente tutto poi scrive tutto giù però a volte passano anche 5-6 ore tra quando si è all'evento e quando si può scrivere quindi anche sono tecniche di memoria e di redazione importante cioè quando uno scrive deve sapere cioè deve essere capito e fare in modo che chi riceve sia in grado di recepire il messaggio quello è molto importante quindi questi stage ne ho fatti tanti ho avuto tantissimi stager alcuni hanno passato altri infatti ricordo c'è una ragazza che si chiama Bianca non dico il cognome che fece con me lo stage in Kosovo e a me dava particolare soddisfazione dico sei bravissima vedrai che passi e poi ha passato il concorso poi è venuta a ringraziarmi è stata lei poi quando doveva andare in Pakistan questa bia io stavo reclutando giovani e questa bianca non aveva nessuna voglia di venire ogni volta che la vedevo nel corridoio questa bianca cambiava strada perché non mi poteva dire di no ma non voleva venire in Pakistan adesso ha avuto un'ottima sede insomma quindi senz'altro è un'esperienza da consigliare sia per chi vuole fare il lavoro che lo impara sia perché magari uno ha in mente un lavoro che poi non è quello che vuole per cui ho avuto tanti ragazzi diceva ma è stato utile per capire che non devo fare sto lavoro perché non è il mio punto poi sono andati a fare benissimo altre cose ma se uno a volte ha un'illusione l'idea di sono delle persone che non riescono a stare con il bavaio sempre o star sempre in una struttura che è fortemente gerarchizzata e fortemente insomma c'è una disciplina interna molto molto solida perché è una struttura che per molti aspetti ricorda quella militare cioè uno non è che entra e fa quello che vuole se uno non accetta questo è meglio che fa un altro mestiere nessuno lo obbliga qui magari delle persone dice lo studente mi ha detto io non poter dire quello che penso dicono nel nostro lavoro devi imparare insomma quello che è il tuo lavoro e quello che è il tuo pensiero sono due cose diverse ma quando sei dentro non è che c'è una riunione e dici la prima cosa che ti viene in mente non si fa e la dice vai a fare un altro lavoro punto quindi è utile nei due sensi e da noi è fortemente incoraggiato grande disciplina per potersi controllare no? e anche ho notato gli ambasciatori hanno una grande memoria fate anche in generale perché la memoria è utilissima ricordarsi le persone ricordarsi chi incontri sì adesso anche generozialmente devo dire che con i media moderni non siamo come i vecchi però effettivamente avevamo degli ambasciatori una volta che stavano così e poi una volta c'erano le macchine da scrivere e c'erano le segretarie cosa che ormai stiamo dimenticando e l'ambasciatore arrivava si metteva così e poi dettava il telegramma senza ripensamenti cioè se lo scriveva in testa prima e poi usciano questi telegrammi lineari puliti elegantissimi così fatti a memoria però per noi la memoria ecco sì sia molto importante proprio perché tutta la vita sociale è una raccolta di informazioni tutto e quindi quando uno tra il momento in cui c'è questa raccolta e ovviamente non è che uno dice una cosa vede che mi metto a scrivere comincia a prendere il panico non mi paga più davanti quindi devo far finta di niente più informazione importante più bisogna far finta di niente così poi si registra e poi invece la si mette a seconda di di quello che le cose ci sono anche i sistemi protetti nel medioevo gli ambasciatori avevano un ruolo che ci mettevano d'accordo prima con la coincidenza delle lettere oppure c'era un ambasciatore veneziano che mandava questi quadri con tutti degli uccelli che volavano e invece avevano una strisciolina in ambasciate una strisciolina a Venezia che dove c'erano le teste di questi uccelli erano le lettere e quindi riuscivano a mandare questi i turchi vedevano tutti i uccelli e dicono cos'è questo che manda tutte queste bestie in giro e in realtà erano dei sistemi un po' di protezione del coso quindi bisogna ricordare e poi a seconda della gravità trasmettere per i canali più adatti buongiorno vorrei ringraziarvi per l'intervento veramente interessante sono Andrea Jacob e al momento sto stendendo la mia tesi di triennale con tema non so se può rispondere provo a chiedere vorrei sapere in base alla sua esperienza da ambasciatore se le organizzazioni non governative possono effettivamente avere un effetto concreto sulla vita degli individui specialmente magari sotto situazioni e condizioni di apartheid come la situazione che c'è in Palestina e Israele al momento e che si protrae da no le ONG ormai sono parte del paese nessuna espressione quindi a volte sono pro governativa a volte contro a volte neutre così però senz'altro sono un attore di politica internazionale un attore imprescindibile quindi noi io per cosa le ricevo tutte anche perché appunto è importante quando uno è professionale sa gli fa rispondere rispondere ma se uno non sa gestirsi nei rapporti o fa degli errori è un grosso limite perché non può mentre le ricevo queste persone normalmente poi dico guardi questo si può fare questo non si può questo non io posso dire mi dispiace però sicuramente noi interagiamo continuamente con le ONG vengono pagano col ministero chiedono di pagare col ministro chiedono di tutti quelli che vengono in un paese chiedono di vedere l'ambasciatore e quindi c'è c'è un grosso una grossa interazione ecco e chiaramente sono anche dei gruppi di pressione di cui la politica tiene conto nella misura in cui in cui poi conviene di perdi fa parte del gioco politico ma è molto ONG sono prendono delle posizioni che sono insomma a volte interagiscono in qualche modo a volte sono prettamente umanitarie però e a volte possono diventare critiche a volte lavoriamo insieme abbiamo fatto tanti lavori insieme con ONG quindi dipende è tutto un gioco dinamico però se mi dice se dobbiamo interagire se hanno un ruolo sì ce l'hanno e come non siamo i cacecchi se uno dice ONG non contano e vive nella luna e se interagirci sì la politica è interagire con tutti il nostro lavoro politico e ripeto la nostra libertà di interazione nasce dalla chiara consapevolezza del nostro ruolo istituzionale e delle indicazioni del governo dopodiché ci si interagisce anzi a volte fanno una proposta e noi la veicoliamo al governo non è che quindi sicuramente è un ruolo Israele e Palestina entriamo nello politico diciamo di cui non non posso oggi esprimere ci sono altri interventi bene mi sembra non ce ne siano io ringrazio tantissimo l'ambasciatore per essere stato a Ca' Foscari con noi e per l'interessantissima conferenza e anche per aver risposto a queste domande nostre e degli studenti soprattutto grazie 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 a tutti